giulio verne il giro del mondo in 80 giorni capitolo primo nel quale phileas fogg e passepartout si accettano reciprocamente l'uno come padrone l'altro come domestico nell'anno 1872 la casa al numero 7 di savile row burlington garden casa in cui morì sheridan nel 1816 era abitata da phileas fogg esque membro del reform club di londra fra i più singolari e in vista benché sembrasse darsi del suo meglio a non fare alcuna cosa che potesse attirare l'attenzione a uno dei più grandi oratori che onorino l'inghilterra succedeva dunque questo phileas fogg personaggio enigmatico di cui non si sapeva altro se non che era un gentiluomo e uno dei più bei galantuomini della società borghese si diceva che assomigliasse a byron nella testa poiché quanto ai piedi era perfetto ma un byron con baffi e favoriti un byron che sarebbe vissuto mille anni senza invecchiare inglese di sicuro phileas fogg non era un londinese non lo si era mai visto né in borsa né alla banca d'inghilterra né in alcuno degli uffici della city né i bacini né i doc di londra avevano ricevuto una nave il cui armatore fosse phileas fogg questo gentleman non figurava in alcun consiglio di amministrazione il suo nome non era mai risuonato in un collegio di avvocati né al tempo né al lincoln's inn né al gray's inn mai egli aveva perorato nella corte di giustizia del cancelliere o nella corte suprema o nel ministero delle finanze o nel tribunale ecclesiastico non era né un industriale né un mercante né un agricoltore non faceva parte né dell'istituto reale di gran bretagna né dell'istituto degli artigiani né dell'istituto russell né dell'istituto letterario dell'ovest né dell'istituto del diritto né di quell'istituto di arti e scienze riunite che è sotto il patronato diretto di sua graziosa maestà non apparteneva infine ad alcuna delle numerose società che pullulano nella capitale d'inghilterra dalla società dell'armonica alla società entomologica fondata principalmente con lo scopo di distruggere gli insetti nocivi phileas fogg era un membro del reform club ecco tutto a chi stupisse del fatto che un gentleman tanto misterioso contasse fra i membri di quella onorevole associazione sarà risposto che gli fu ammesso su presentazione dei signori bearing titolari della bearing brothers banca presso la quale aveva un credito aperto e da ciò una certa facciata dovuta al fatto che i suoi assegni venivano regolarmente pagati a vista a debito del suo conto corrente invariabilmente in credito era ricco questo phileas fogg incontestabilmente ma come avesse fatto fortuna i meglio informati non lo potevano dire e il signor fogg era l'ultimo al quale convenisse rivolgersi per saperlo ad ogni modo egli non era affatto prodigo ma neppure avaro dal momento che ovunque occorresse una sovvenzione per una cosa nobile utile o generosa egli elargiva silenziosamente ed anche anonimamente insomma nulla di meno comunicativo di questo gentleman parlava il meno possibile sembrava tanto più misterioso quanto più era silenzioso nonostante ciò la sua era una vita trasparente ma quel che faceva era così matematicamente sempre la stessa cosa che l'immaginazione scontenta cercava al di là aveva viaggiato probabilmente poiché nessuno meglio di lui era padrone della carta del mondo non c'era luogo tanto remoto di cui non sembrasse avere una speciale conoscenza talvolta ma in poche parole brevi e chiare rettificava i mille discorsi che circolavano al club su viaggiatori perduti o smarriti forniva le spiegazioni più plausibili e le sue parole si erano dimostrate spesso come ispirate da una seconda vista tanto gli eventi finivano sempre col giustificarle era un uomo che doveva aver viaggiato dappertutto in spirito perlomeno tuttavia è certo che da molti anni phileas fogg non aveva lasciato londra quelli che avevano l'onore di conoscerlo un po più degli altri affermavano che nessuno poteva pretendere di averlo mai visto in un luogo diverso dalla strada che percorreva ogni giorno per andare da casa direttamente al club il suo unico passatempo consisteva nella lettura dei giornali e nel gioco al whist a questo gioco silenzioso così ben appropriato alla sua natura vinceva spesso ma i guadagni non entravano nelle sue tasche e figuravano per una somma importante nel suo bilancio della beneficenza d'altronde bisogna aggiungerlo il signor fogg giocava solamente per giocare non per vincere il gioco era per lui un combattimento una lotta contro una difficoltà ma una lotta senza movimento senza spostamento senza fatica come si addiceva al suo carattere non si riconoscevano a phileas fogg né moglie né figli cosa che può cadere alle persone oneste e neanche parenti amici ciò che in verità è più raro phileas fogg viveva da solo nella sua abitazione di savile row in cui nessuno entrava di come fosse l'interno neppure si parlava un solo domestico bastava servirlo fatto colazione e pranzato al club a ore cronometricamente determinate nella stessa sala alla stessa tavola non trattando i suoi colleghi non invitando estranei tornava a casa solo per andare a letto a mezzanotte precisa senza mai far uso delle camere che il reform club tiene a disposizione dei membri del circolo su 24 ore ne passava 10 a casa sua per dormire e per occuparsi della sua toilette se faceva una passeggiata era invariabilmente un passo uguale all'altro nella sala d'ingresso del club che aveva il pavimento a parquet intarsiato o nella galleria circolare su cui si incurvava una cupola a vetri azzurri sostenuta da 20 colonne ioniche di porfido rosso a pranzo o a colazione erano le cucine le credenze la dispensa la pescheria la lateria del club che fornivano la sua tavola le loro succulente provviste erano i domestici del club gravi personaggi in marsina nera calzati di scarpe con suole felpate che lo servivano in piatti di porcellana finissima e su del club che contenevano il suo sherry il suo porto o il suo chiaretto aromatizzato con cannella o sciroppo di cape il venere era infine il ghiaccio venuto con gran spesa dai laghi d'america che manteneva le sue bibite in soddisfacente stato di freschezza se il vivere così vuol dire essere originale bisogna convenire che l'originalità del buono la casa in saville row senza essere sontuosa si raccomandava per l'estrema confortevolezza d'altronde con le abitudini invariabili del locatario il servizio vi si riduceva poco però phileas fog esigeva dal suo unico domestico una puntualità una regolarità straordinarie quel giorno stesso il 2 ottobre phileas fog aveva congedato james forster resosi colpevole di averli portato per la barba dell'acqua a 84 gradi far night anziché a 86 e attendeva il successore di questi che doveva presentarsi fra le 11 e le 11 e mezzo phileas fog seduto all'angolo retto in una poltrona con i piedi accostati come quelli di un soldato imparata le mani appoggiate alle ginocchia il corpo eretto la testa alta guardava camminare la lancetta della pendola apparecchio complicato che indicava le ore i minuti i secondi i giorni le date mensili dell'anno al suono delle 11 e mezzo il signor fog doveva secondo la sua abitudine quotidiana lasciare la casa e andare al reform club in quel momento fu bussato alla porta del salottino in cui stava phileas fog james forster il congedato apparve il nuovo domestico disse un giovanotto sulla trentina parve salutò voi siete francese e vi chiamate john gli domandò phileas fogg jean se non spiace al signore rispose il nuovo venuto jean passepartout un soprannome che mi è rimasto e che fu motivato dalla mia attitudine naturale a sbrogliarmela credo di essere un giovane onesto signore ma a essere franco ho fatto parecchi mestieri sono stato cantore ambulante cavallerizzo in un circo dove facevo il volteggio come liotarde ballavo sulla corda come blondin poi sono diventato professore di ginnastica per utilizzare meglio le mie capacità e da ultimo ero sergente dei pompieri a parigi e ho anche degli incendi notevoli nel mio incartamento ma sono ormai cinque anni che ho lasciato la francia e che volendo gustare la vita di famiglia sono cameriere in inghilterra ora trovandomi senza posto e avendo saputo che il signor phileas fogg è l'uomo più puntuale e più sedentario del regno unito mi sono presentato al signore con la speranza di vivere tranquillo con lui e di dimenticare perfino questo nome di passepartout oh non ho obiezioni al nome di passepartout rispose il gentleman voi mi siete stato raccomandato ho buone informazioni sul vostro conto conoscete le mie condizioni sì signore bene che ora fate le 11 e 22 rispose passepartout estraendo dalle profondità del taschino un enorme orologio d'argento siete indietro disse phileas fogg chiedo scusa signore ma è impossibile siete indietro di quattro minuti ma non importa basta contare lo scarto dunque a partire da questo momento alle 11 e 29 del mattino di questo mercoledì 2 ottobre 1872 voi siete al mio servizio detto ciò phileas fogg si alzò prese il cappello con la sinistra se lo mise in testa con un movimento da automa e sparì senza aggiungere parola passepartout sentì la porta di strada chiudersi una prima volta era il suo nuovo padrone che usciva poi la sentì una seconda volta era il suo predecessore che se ne andava e rimase solo nella casa di Savile Row